hai mai affrontato i problemi tipici di un'azienda produttiva non riesce a prevedere i tempi di consegna non hai controllo sul cash flow aziendale a volte non capisci in che punto del processo si trova la produzione per aiutarti abbiamo implementato il metodo produzione perfetta che migliora l'efficienza della tua azienda con la digitalizzazione risolviamo i tuoi problemi in otto step visitiamo l'azienda identifichiamo gli obiettivi realizziamo una macro analisi per descrivere il processo ideale disegniamo il nuovo modello aziendale identificando i processi e come andranno gestiti validiamo i dati aziendali per garantirti il risultato implementiamo integriamo i nuovi software con quelli in uso e le macchine secondo i principi di industria 4.0 impostiamo le attività in tutti i reparti aziendali formando il personale coinvolto realizziamo dashboard personalizzate con i dati chiave per ogni reparto verifichiamo periodicamente le procedure e aggiungiamo nuovi elementi di controllo migliora la gestione e la produzione della tua azienda in ottica industria 4.0 con l'aiuto di cpspa per garantire vicinanza operiamo in emilia romagna e nel sud della lombardia visita il nostro sito